Un caro saluto a tutte e a tutti. Nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha approvato una norma anti-dumping, diciamo una norma che riguarda la difesa commerciale dell'Europa. Di questo siamo molto soddisfatti, ne sentivamo la necessità. Di che cosa si tratta? Si tratta di una normativa, di una legge che consente di alzare i dazzi a quelle merci che provengono dall'estero e che praticano la logica del dumping sociale, cioè una concorrenza sleale a ribasso nel prezzo delle merci. Questo come può avvenire? Può avvenire anche attraverso il fatto che ci sono determinati stati che puntano a sovvenzionare le loro produzioni. Pensiamo ad esempio alla Cina quando si parla dell'acciaio, sovvenzionare l'acciaio delle imprese cinesi con degli incentivi che sono proibiti in Europa ovviamente mette fuori mercato le nostre produzioni. Noi pensiamo che questa normativa sia quindi molto importante, introduce un criterio di flessibilità nei comportamenti e si riferisce esclusivamente, non in modo indiscriminato, a quelle merci che praticano appunto una concorrenza sleale. Questo vuol dire lavorare per proteggere le nostre aziende, il nostro lavoro, la nostra occupazione.